Pernaz, sono appena svegliato ragazzi per dirvi che io sto a casa, astago ufficiale, fatelo anche voi per agevolare il lavoro di futuro che sono in prima linea contro questa terribile pandemia. Varazze mi manchi, la musica unisce, Varazze continua a suonare, noi non ci fermiamo, musica a domicilio è l'unico modo per continuare lo spettacolo in attesa di tempi migliori. Nel frattempo ringrazio il sindaco, l'assessore, al turismo, tutti coloro che si sono sbattuti, artisti, colleghi, performer, musicisti, DJ, attori, tutti coloro che hanno dato un contributo e vorranno ancora darlo per permettere che il divertimento vada sempre avanti. Noi non ci fermiamo, la musica non si ferma, seguite linee guida per aiutare la protezione civile e la croce rossa italiana, Varazze, un bacione impernazito, mi mancate, ci vediamo presto a fare casino tutti insieme, ciao!